Ciao, sono Maddalena Bignu, ho 28 anni e vengo da Conegliano. Sto a Roma da circa tre anni. Ho iniziato a recitare che ero piccola all'interno della scuola e ho poi continuato con corsi, workshop, laboratori. Ho partecipato a cortometraggi nel ruolo di protagonista, tutti che hanno avuto ottimi risultati. Ho anche potuto avere dei ruoli nella seconda stagione di Lydia Poet, nella Quarta dell'Amica Geniale e un piccolissimo ruolo all'interno del film in uscita di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole. I also speak English, because I'm used to speak English with a lot of native speakers and I also speak Japanese. Veneziano daigaku de benkyoshimashitakara nyungogadikimasu che significa che dato che ho studiato a Venezia, posso parlare anche in giapponese. Mi piace molto il violino folk e mi piace molto anche cantare. È una cosa che ho riscoperto da due anni e mezzo. Dico riscoperto perché prima facevo coro, adesso prendo lezioni private e mi sta appassionando tantissimo. e cos'altro posso dire? Mi piacciono molto le arti marziali e ho un gatto. O meglio, i miei hanno un gatto che è un po' pazzo perché ha paura della sua stessa ombra, si fa toccare solo quando vuole lui, diciamo sta vivendo un po' una fase ribelle adolescenziale. Ecco, mettiamola così. Questi sono i miei profili e queste sono le mie mani. Grazie Grazie